Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Nel corso della puntata di pomeriggio 5 del 4 novembre, si è acceso uno scontro verbale tra Beatrice Luzzi e Caterina Collovati. La discussione è nata da un paragone che Collovati ha fatto tra Luzzi e Shaila Gatta, concorrente del grande fratello criticata per il suo comportamento con Lorenzo Spolverati. Collovati ha fatto notare che Luzzi, all'interno della casa, aveva avuto un flirt con Massimiliano Varrese. A quel punto, Luzzi ha reagito duramente, dichiarando di non aver mai avuto atteggiamenti simili e di essersi comportata sempre con rispetto. «Non mi sono mai fatta una doccia in costume, ci sono stati solo due baci innocenti davanti alle telecamere», ha replicato Luzzi, visibilmente infastidita. Di fronte all'insistenza della Collovati, Luzzi ha ribattuto con vehemenza, portando Mirta Merlino a intervenire per ristabilire la calma in studio. In un confronto che ha lasciato gli spettatori sorpresi.